Domanda di Nelu Salve cari fratelli, in due dei vostri video fate riferimento al capitolo 10 di Daniele sul quale avete due diverse interpretazioni. Un video è quello di tutta l'Apocalisse scrittura per scrittura capitolo 1 che abbiamo fatto un po' di anni fa. No, 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 questo è lo studio aggiornato tutta l'Apocalisse scrittura per scrittura capitolo 1 Ah, quello che stiamo facendo adesso? che abbiamo fatto un mese fa. Ecco. E l'altro video è l'angelo dell'America e l'angelo della Russia in lotta. In entrambi questi capitoli abbiamo studiato Daniele 10. Abbiamo fatto riferimento a Daniele 10. Nel video dell'aggiornamento di Apocalisse 1 fratello Giuseppe afferma che in Daniele 10 viene descritto Gesù, Gesù del Vecchio Testamento. Nell'altro messaggio, l'angelo dell'America contro l'angelo della Russia sempre parlando di Daniele capitolo 10 fratello Giuseppe prende un'altra interpretazione nel senso che si tratta dell'arcangelo Michele. Vi prego di dirmi se ho capito male io, perché è troppo bella la scrittura e fratello Giuseppe è la persona che mi ha fatto avvicinare a Gesù Cristo anche se ancora ho una lunga strada da fare. Bene, guarda, la faccio insieme a te fratello. Vi ringrazio anticipato e aspetto una risposta da parte vostra. Grazie e Dio è sempre con voi. Amen. Amen. Grazie, Nelù. Gesù ha detto, Matteo 28, ecco, io sono con voi sino alla fine. Alleluia. Amen. Alleluia. Sai, ti confesso che prima di ricevere questo messaggio da Nelù pensavo anche io proprio a questi due messaggi e pensavo ma li abbiamo studiato in due tempi diversi e abbiamo detto due cose diverse e pensavo ma è giusto o non è giusto però non ero sicura di quello che ricordavo, non ero sicura se mi ricordo bene e ho dimenticato la cosa. E Nelù scrive esattamente la stessa cosa. Sì, ma tu avevi in un certo senso i stessi dubbi quando sei venuta da me qualche po' di giorni fa. Stessi dubbi avevo. Sì. Come se qualcosa non va, pensavo. Nelù, guarda, Angela era della tua parte contro di me. Ma certo. Come spesso avviene. Ma è così. Angela non è il tipo che fa troppe moine, troppe finte. Angela, lei è un tipo pane al pane e si salvi chi può, ragazzi. Grazie. Ecco. No, ma senti, dobbiamo trovare le soluzioni. Poi sono d'accordo e ci mettiamo in unità. No, ma bravo. A me mi piace quando è il pane al pane. Allora, come spieghi questa differenza tra i due messaggi? Che il primo messaggio ho detto? Il primo messaggio ha detto che in Apocalisse 1 dove vediamo descritta la presenza di Gesù bellissima è la stessa di Daniele 10. Vediamo un essere completamente celestiale perfettamente in sintonia con Apocalisse 1. Ho detto che lo stesso personaggio ha detto che è Gesù. È Gesù qua e Gesù là. Poi nel messaggio Angelo dell'America, Angelo della Russia in lotta ha detto che ogni nazione ha un demone che è in controllo di quella nazione e quindi... Ce n'è uno in Daniele 10. C'è uno in Daniele 10, l'angelo della Persia che lotta con l'arcangelo Michele. E stesso capitolo c'è un altro angelo, uno di Persia e l'altro di Grecia. Sì, e quindi ci sono questi combattimenti spirituali tra angeli di Dio e i demoni che sono responsabili di nazioni. E hai dato Daniele 10 come esempio. Ecco. Però si trattava di un angelo, non di Gesù. Eh sì, e questo fratello dice ma tu hai detto che era Gesù e adesso mi dice che sono demoni perché ogni nazione c'è un demone l'angelo demone di Persia poi quell'altro di Grecia però tu hai detto che era Gesù quindi qui c'è una contraddizione. Giusto. E allora qui Angela è venuta da me e mi ha dato lo stesso. Angela mi ha detto Angela ho guardato e studiato e questo fratello ha ragione e com'è che la mettiamo? E come rispondi tu Giuseppe? Come la metti tu? Angela mi metterà troppo nei guai che mi è rimasta poca poca reputazione. Allora, signore aiutaci. Amen. E buffo quando c'è... Qualche fratello fa domande ma quando arriva Angela bisogna che attrezzare le antenne perché lei conosce la parola. Lei con Angela non si sgarra fratelli. Cosa hai fatto Giuseppe? Cosa hai insegnato? Lei conosce la parola e sa dove andare a trovarla con memoria mille volte meglio di me lei sa dove trovare tutto. Non so come fa ma lei ci riesce. Guarda, sto usando la pagina dei Topici come tutti i fratelli. È lì il segreto. Sulla pagina dei Topici trovate tutto. Sì, si capisce che io non l'ho mai usata questa pagina. Allora? Qual è la risposta? Guarda, la risposta è che questa foto dell'angelo è messa sulla pagina. No, non c'è sulla pagina. Lo vuoi mettere? Ok, sì. Qui c'è un angelo che combatte col demone. Sono due foto, quale? Qui l'angelo con la spada che combatte col demone. Con la spada. Entrambe hanno la spada. Sono due foto. Ecco, sì. Sì, cioè puoi metterle tutte e due se vuoi. Ok, sì, sì, va bene. Comincia dalla prima l'angelo che vola. Ok. L'altro deve essere da figurare, credo, l'arcangelo e Michele. Sono molto belle queste foto. Voglio che le guardate. Foto, insomma, sono dei dipinti. Allora, andiamo Angela? Sì, tu vai avanti, sì. Posso attaccare qua? Sì. Allora, io, per la verità, Angela, io, come già ti ho detto, non è un'interpretazione diversa. So che sono due angeli demoni, però l'interpretazione è che ho dato a Apocalisse 1 e a Daniele 10, che un angelo era Gesù, non è, non sono interpretazioni diverse. Continuerò oggi a dimostrarti che l'interpretazione è giusta e adesso ti spiego perché. Sì. Allora, le due descrizioni sono troppo simili, cioè il Gesù di Apocalisse 1 e l'angelo che io ho detto che è Gesù di Daniele 10. Le due descrizioni sono troppo simili per pensare che in entrambi i casi non stia parlando di Gesù. Vediamo le similarità, andiamo a Daniele 10, 4, vuoi? Ok. Ecco, poi 10, 4. Daniele 10, 4. Per 10, 4. Guarda, leggi il 5 e il 6, guarda. Alzai gli occhi, guardai, ed ecco un uomo vestito di lino che aveva ai fianchi una cintura d'oro. Il suo corpo era come crisolito, la sua faccia splendeva come lo folgore, i suoi occhi erano come fuoco fiammeggiante, le sue braccia e i suoi piedi erano come il rame splendente e il suono della sua voce era come il rumore di una moltitudine. Daniele 10, 4, no, 5 e 6. Ecco, anche l'8. Io rimasi solo a contemplare quella grande visione. In me non rimase più forza. Il mio viso cambiò colore fino a rimanere sfigurato e le mie forze mi abbandonarono. Daniele 10, 8. Ecco, questa qui è la descrizione dell'angelo di Daniele 10 che io ho detto che è Gesù. Ora, vediamolo in confronto all'Apocalisse 1, 13 al 16. Ok. Apocalisse 1, 13. In confronto. Che io ho detto che è la stessa persona, cioè Gesù. In mezzo ai sette candelabri, uno simile a un figlio d'uomo, vestito con una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. Siamo in Apocalisse 1, fratelli. Stiamo paragonando all'altro angelo che è Gesù in Daniele 10. Andiamo avanti con Apocalisse 1. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come lana candida, come neve. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco. I suoi piedi erano simili a bronzo incandescente, arroventato in una fornace. E la sua voce era come il fragore di grandi acque. Nella sua mano destra teneva sette stelle. Dalla sua bocca usciva una spada a due tagli affillata. E il suo volto era come il sole, come risplende in tutta la sua forza. Anche 17. Quando lo vedi, cadi ai suoi piedi come morto. Ma Elghi pose la sua mano destra su di me dicendo, Non temere, io sono il primo e l'ultimo. Apocalisse 1, 13 a 17. Ecco, allora, io sono convinto che in entrambi i casi sta parlando di Gesù. Infatti se tu vedi la... È la stessa descrizione. La descrizione. E dice uno simile a un uomo, in entrambi i casi. Sì, qui vedi che in Daniele 10 dice, La sua faccia splendeva, gli occhi come fuoco, i piedi come rame, la voce come il rumore di una moltitudine e le forze mi abbandonarono. Ah sì. Ok, saltando Apocalisse 1 diceva una cintura d'oro, i suoi occhi come fiamma, i piedi simile a bronzo, la voce come il fragore di molte acque, il voltero come il sole e cadde i piedi come morto. È lo stesso. Praticamente sembra fotocopiato. Sì, sì, sì. Capito? Per questo che io ho detto questa persona è Gesù in entrambi i capitoli. Ok. Ora, leggiamo bene la continuazione. Allora, torniamo a Daniele 10, va bene? Al 10, dal 10 al 21 praticamente. Daniele 10? Leggi solamente il 10, va. Ed ecco una mano. Ed ecco, una mano mi toccò e mi fece stare sulle ginocchia e sulle palme delle mani. Ecco, allora, io voglio dire a questo fratello, finita la descrizione Daniele 10, la scrittura seguente dopo la descrizione dice una mano mi toccò. Mi segui? Ok. Mi fece stare sulle ginocchia. Allora, io credo, fratello, che tu stai confondendo Gesù che appare a Daniele nei versi che abbiamo letto da 5 al 9 con la seguente apparizione, che è un'altra persona, e che invece si tratta invece di un angelo. La seconda apparizione è solamente un angelo che lo tocca con la mano. No, rileggi di nuovo verso 10, Angela. Ed ecco, una mano mi toccò e mi fece stare sulle ginocchia. Daniele 10, 10. Ecco, attenzione a questa scrittura che qui ti dà una differenziazione, qui c'è un cambiamento. Non dice la sua mano mi toccò. Ah, perché appena ha finito di descrivere Gesù, uno che era un uomo, dice. Come figlio dell'uomo. E poi dice, ed ecco, una mano mi toccò. È un'altra mano questa? Sì, non dice la sua mano del precedente apparizione che è Gesù. Dice una mano. Sì, perché dice prima le sue parole, il suo viso, i suoi piedi, e poi una mano. Capito? Non la sua mano. Qui dobbiamo interpretare, secondo me, che sta parlando di due persone diverse. Perché non dice la sua mano, ma dice una mano. E' il modo in cui tu parleresti se dovessi indicare una persona diversa. E' attenzione, qui manca dove dice sua. Allora, in Daniele 10, vediamo che non solo Gesù che appare, ma vediamo che appare anche un angelo. Quando l'angelo lo tocca, non può essere Gesù, per il semplice fatto che dice. Perché sappiamo che non è Gesù questo? Principalmente dal verso 13. Dice il capo... Il capo del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni. Oh! Daniele 10, 13. Allora, possiamo pensare che il capo di Persia, che è un diavolo, resiste a Gesù per 21 giorni. Nessun diavolo può resistere a Gesù per 21 giorni. Stiamo scherzando. Ah, ma questo non può essere Gesù. Non può essere Gesù perché il diavolo non può resistere a Gesù 21 giorni. Guarda, andiamo a Luca 4. Ok. Sì. 36. E tutti furono presi da stupore e discutevano tra di loro dicendo, che parola è questa? Egli comanda con autorità e potenza agli spiriti immondi ed essi escono. Luca 4, 36. Vedi se c'è scritto dopo 21 giorni. Eh no. Subito! I demoni ubbidiscono subito a Gesù. Dice, e gli comanda ed essi escono. Quando escono? Rapido, subito. Di corsa! Matteo 8 si è buttato per terra il demone dicendo non mi mandare nell'abisso. E si è inginocchiata davanti a Gesù, il demone. Matteo 28. Gesù dice. Matteo 28. 18. 18. E Gesù avvicinato si parla loro dicendo ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Matteo 28, 18. Capito? Così ogni potere significa Dio, la presenza di Dio, il vero Dio è dentro Gesù allo stesso modo e non sono due persone ma spiritualmente è una persona è solo la carne di Gesù che faceva la seconda persona non è Trinità. e sono due persone e basta. Però sono uno, sempre uno e mai tre sempre uno nello spirito. Quindi non predicate la Trinità predicate Dio, Gesù che sono una persona. E allora dice ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Allora questo demone che ha esistito 21 giorni non poteva star lottando contro Gesù Cristo. stavo lottando contro un angelo. Perché 21 giorni? Perché questa era la fede di Daniele tu preghi per una guarigione e la ricevi dopo due o tre settimane. Perché? E quella è la tua fede. E che Gesù tocca gli occhi di uno cosa vedi? Vedo uomini come alberi. E dice aspetta che finiamo il lavoro toccato di nuovo oh gli alberi sono spariti adesso vedo gli uomini. Era la sua fede era lui che vedeva gli alberi. non era mica Gesù che non è la sua fede. E un altro dice c'è un altro passaggio che dice non poter fare molti miracoli per via della loro incredulità. Quindi il Signore si è autolimitato ad operare attraverso la nostra fede se siamo credenti riceviamo e se siamo increduli Gesù non opera perché si è autolimitato. Ci siamo? Sì. Non so se mi sono spiegato abbastanza. Comunque credo che il punto principale è quello che hai detto tu che nessun diavolo può resistere a Gesù quindi questo essere angelico che deve combattere contro il demone della Persia non può essere Gesù perché Gesù non ha bisogno dell'aiuto di Michele che viene e lo soccorre. Ma ci mancherebbe altro che Gesù capisci? Gesù comanda gli angeli e lui manda gli angeli. Quindi questo è un essere angelico normale e Michele deve aiutarlo a combattere contro il demone della Persia. Certo quindi l'angelo che tocca il capo di Daniele una mano mi toccò il capo quindi questa mano non può essere Gesù ma è un diverso essere angelico e celestiale che appunto gli servono 21 giorni per combattere un diavolo. Questo non è Gesù e se Gesù basta che schiaccava le dita il diavolo è già svolazzato via. Anche noi fratelli che adesso guarda caso noi abbiamo Gesù nel cuore e abbiamo tutta la sua potenza nel cuore tutta la sua forza e possiamo usarla in base alla nostra fede. Allora è sufficiente come risposta? Per me sì, spero. E anche per te? Sì, spero che è chiaro se no Nelu sicuramente scriverà. Infatti aspetta che ha scritto Nelu proprio adesso dice grazie, grazie il versetto 13 capitolo 10 di Daniele letto intero dice che Michele mi viene in aiuto. Sì. Quindi quello spiega tutto praticamente. Sì, sì, sì. Quello spiega tutto. Sì, sì. Bene, ci siamo? Sì, infatti se leggiamo bene tutto il capitolo vediamo che in Daniele 10 ci sono diversi esseri celestiali. C'è questo come figlio d'uomo che è meravigliosamente descritto come Apocalisse 1 poi c'è una mano che dice il principe di Persia non dice la sua mano di Gesù dice una mano poi più avanti verso 16 dice ed ecco uno che aveva l'aspetto di un figlio d'uomo mi toccò di nuovo e io gli dissi mio signore questa visione mi ha riempito d'angoscia quindi ci sono diversi esseri lì da studiare non c'è solo uno. Il signore viene con la sua miriade di angeli il signore ovunque va c'è una miriade di angeli che lo attorniano e che fanno le cose che devono fare e non fanno le cose che Gesù fa e Gesù non fa le cose che ha delegato gli angeli a fare. Amen? Sì, sì, sì. Amen. Grazie signore. E la parola sempre chiarisce tutto se la studiamo in completo. Sì, è molto importante quando cercate di interpretare profezia fratelli che state attenti ai dettagli capito? Daniele VII c'è un orso che ha tre costole in bocca perché c'ha tre costole in bocca? Sì, è poi da una parte la più alta dall'altra perché Ciro era più potente di Dario tre costole Egitto, Assiria, Babilonia quindi state attenti ai dettagli fratelli cercate di fare mente locale cercate di non distrarvi e non riempite le, come si dice, le brecce quando ci sono cose che non capite non riempitele con qualcosa che qualcuno ha insegnato qualcuno mi ha insegnato che la pimenta è prima tribolazione e allora io non so come spiegarla ma ripeterò a pappagallo quello che qualcuno ha detto stai attento che caschi nella stessa fossa dell'altro asino due errori non soluzionano niente Comunque credo che la colpa è stata anche nostra perché avevamo dovuto spiegare meglio quando abbiamo studiato questo capitolo Daniele 10 perché neanche noi abbiamo notato questa differenza quindi dovevamo studiare meglio Grazie Gesù Grazie a tutti